Da poco sono nel mondo della pipa e chiedo un consiglio, da una discussione di FLP del 2004. Il Bokum Reef Ultra Light è stato il mio primo tabacco, comprato a 15 anni e fumato in una primitiva pipa di bambù da me costruita. Sarà stata la pipa, la situazione, quello che volete, ma ricordo il suo fumo nella mia bocca come il più dolce miele mai assaggiato. Infatti quando ho iniziato a fare sul serio, cioè ho comprato una pipa di radica, ho preso il Bokum, ma in una versione vaniglia Cavendish, per colpa di un tabacchino malefico. Ottimo l'odore da spento, ma poi disgustoso. Ma il Cellini, dopo aver scoperto l'attacchia, mi stomaca parecchio, nonostante debba riconoscere che sia buono e costi uno sputo. Inoltre non riuscivo a tenerlo acceso fino in fondo, poiché si formava un odioso fondiglio ignifugo e puzzifero e zuccheroso. La pipa poi ha odore di dolce a distanza di mesi. Per questo sono un po' restivo a provare il panettone Bluenot. Scusate per l'aggettivo che non vuole essere dispregiativo, ma il Bluenot è un panettone. L'armonia invece, che a me piace, secondo me ha lo splendido pregio di non lasciare alcun ricordo di sé nella pipa, a differenza del Cellini. Per cui, secondo me, verrebbe la pena per un neofita di provare prima l'armonia, poi il Cellini, ed infine radere al suolo l'odore di pasticcere del suo primo e presumibilmente unico legno con un po' di lattacchia. Poi magari si raspara crosta, ci si fuma dentro un Toscanello del Forte e così hai una pipa come nuova. Però hai provato tabacchi diversi e puoi decidere che profumo far indossare al tuo attrezzo. Qualcuno potrebbe storcere il naso, ma si sa che i gusti sono gusti. Io personalmente ti consiglio una cosa molto particolare. Prendi una busta d'Italia, una di Caledonian verde, mezzo Toscano, mixi tutto e fumi di brutto. Penso che sia una miscela molto saporita, molto appagante, ma pochissimo aggressiva se non per il Toscano, che però ti dà corpo. Fatti 200 grammi di questa e poi ne riparliamo.